Ciao, sono Clara. Sono Lorenzo. Sono Matteo. Fresco di divorzio. Sono avvocato in un grande studio. Insomma, un tipo da takeaway. Mangio poco e male. E amo le cose piccanti, pratiche e veloci. Male, malissimo. Ragazzi, per me siete perfetti per i nuovi libri di Cucina per Single. Cucina per Single. Ricette facili, simpatiche e veloci. Per single e non. I primi due fascicoli in edicola a soli 5 euro. Scarica l'app con le videoricette di Simone Ruggiati.